ok allora questa cosa vediamo questa terracotta cinese avrà migliaia di anni possibile che i cinesi si fossero insediati sull'isola ben prima degli Yamatai fa anche schifo non ho comprato una migliaia d'omarocchino no vabbè munizioni siamo a posto entriamo qui Lara dillo che puzza 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 esce lo gnomo che dice puzza 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 questa verde ok devo fare qualcosa sicuramente materiali 60 o 70 almeno dai 65 allora vediamo qui non c'è nulla ok penso sia una cosa da fare per due persone ah no magari devo fare in fretta si puttana merda devo fare in fretta ah no ce la faccio ce la faccio ok and ok ho capito è la cosa più logica che mi viene da fare tirare e magari va sulla porta e magari va sulla porta ha vabbè è uguale mi son creato sempre una strada devo trovare il modo di arrivare lassù non ce l'ho già pensato all'aretta ehm no in realtà non ci ho pensato forse qui forse qui no no ai lati non si arrampica poco ma sicuro no 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 lo posso tirare? no idea 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 vado qua sopra lo tiro a me e poi ci salto a sopra sample as a fuck perfetto così dovrebbe andare sicuramente dai non farti pregare no ok posso saltare oh finalmente cazzo le regine del sole la prova in cui la regina sceglie la sua eredita la sacerdotessa prescelta entra nel monastero ricevi il potere e diventa la nuova regina un momento sai quante persone hanno dato l'anima per questo per la prima e ultima regina resta un'anima sospesa in un corpo deperito ricettacoli non ereditano il potere ricevono un'anima queste regime erano eri tu il Miko la prima e ultima oddio e la prossima è Sam ma lei non lo avrà ok sperate ok proseguiamo ora dove dobbiamo andare qui boh io vado di qui più lenta Lara tanto non devi crepare tu giusto guardate come va lenta piano una corsettina stai facendo jogging più veloce cazzo va beh che ha un casino di armi oppresso e c'è un miracolo che riesca a camminare con tutte le armi che si porta ehm 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 bene questo qua significa ho visto manufatti simili allo scavo di Ban Chiang in Thailandia come ha fatto ad arrivare fino a Yamata E poi lo scopriremo Allora vediamo l'accampamento E ma stasera non c'è un cazzo Io oggi ho rapido Ma dove dovrei andare? Qui Ma non è che ci sono già qui Io non ho capito un cazzo di dove si Ah no sono qui ok Fanculo Che stronce guardate a volte mi confondo Faccio figure di merda lo so lo so lo so Accettatemi così per come sono Open Andiamo Succederà qualcosa me lo sente No Ti prego Lara Perché lo fa il Mattias? Credi di essere tanto eroica Lara? Io sto solo lottando per sopravvivere Tu quante vite hai spezzato facendo lo stesso? Qui non ci sono Ma solo superse Ilico è pericolosa Mattias È curiosa Vendicativa È troppo potente Una mortale in cambio di una regina Questo è il prezzo della nostra libertà E tagli una cazzo di testata E poi minchia usa l'arco E con tutto il vento che c'è Probabilmente la freccia torna da noi e ci ammazza Furbizia 10 più Polo Madoni 10 più Guardate come corre Tanto non c'è freddo Tanto non c'è freddo Tanto non c'è freddo Tanto non c'è freddo Sì tua mamma Ho lasciato la granata Ok Più su l'ora Muovi il tuo bel culetto Wow Ok Merda sono bloccato No non sono bloccato Immagino che bel freschetto ci sarà lì Lì a monica è corte Anzi con la canottiera tattica Di qui di qui di qui No ecco di qui Così magari Minchia non lo prendo Porca la troia Ai dia Ai eva ai dia Mai lo tiro da me E il vento lo spinge Sono furbissimo Chiaramente si sta iniziando a sgretolare tutto Perché chiaramente Queste Queste cazzo di cose Le fanno con i Ciccadini Ti merda Ok Ehm Si Dove cazzo me la pianto? La freccia Ne coglioni Nel legno fa no Ah ecco Dove vado? Io dico di qui Che bravissima vera Oh E' ma che cosa sono scimmie Sembrano più che altro pulci Come stava la mofenda Se non dovessi tornare Non partiremo senza di te Ecco Aspetteremo Vedi? Vedi delle persone furbe? Tu invece hai lasciato Alex dentro la nave A crepare come una merda Minchia me la rischio sempre E dai vai veloce Danza più duro No non lo so Non ho capito se mi sta aiutando Quella dea di merda Suppongo di si E' visto che mi sta facendo Ho trovato queste belle cosine Occhio ho capito No No Gesù santo Ok Dai distruggita ancora Perché tanto L'hai già fatto Sta sempre distruggendo sta merda Si La minchia Dai Questo vento di merda Fuera del papo Fuera del papo Si Addirittura Ci sta aiutando Con la troia Più o meno Più o meno Gesù Gesù Siamo in cima Oh grande regina Colpisci Colpisci Oh merda Oh merda Ciao Sam Sei morta Sì Coglione Che cazzo V'ho detto Ho proprio stato il vento Sparare no Vero Vero No no Sparare no Qua Parca conna Su Mi Ti Mi 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 Perca tronche! Succami la banana! Per la regina del suono! Dai non spara! Vieni qua! Ok, grazie b***h! Sta zucciando! Devo andare a farlo in fretta! Sentitela come viene zucciata! Credite! Mi! Grazie, molto grazie! D'accordo! La banana me la devi sugare! Oh, finalmente un po' di fortuna! Tuna cazzo! Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Vieni, vieni che ho capito! Vieni, vieni che ho capito! Oh! Bravo! Gira! Oh! 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 Il me... Oddio! L'ho rischiata Ok andiamo di qui Ma di qui si può andare? No C'è troppo vento E figuriamoci Però io che cazzo posso fare? Guardate il vento che c'è No Gesù santo Non fai una troia Minchia Boh Che cazzo faccia? Cristo Ma porca No non è possibile ragazzi Non è possibile Madonna Certo passa anche attraverso il legno No Oddio Servo Non parte del male Guardate Combattendo a mezz'aria Che cazzo Io non ho mai vinto nulla di più idiota In vita mia Ecco il coglione Tua zia è pronta Tua zia è pronta Messa a 90 nel forno Guardate come va lenta Ma è stupida Stupenda Berta non lui Non lui Voi! 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 Bene, adesso andiamo! Voi! Ah, la schiena è il punto d'ebole! Fa anche schifo la tua schiena! Vieni, 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 coglione! Ok, riproviamoci! Vieni, coglione! Dai, quella troia sto morendo! Dai! Fammi vedere la tua schiena! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Teso di cazzo! Bella schiena! Minchia! Non è possibile! No! Gesù! Sì, guardate lei, eh! Ah, bene! Mi devo anche occupare di questa faccia di merda! Dai, ma che cazzo! PORCATROIT! Il tigolo da cazzo! Bravo, l'hai presa da parte mia! Prendo le cartucce, aspetta un attimo! Vieni qua faccia di merda! Dai, dai, ancora, ancora! Wow! Vieni qua! Oh, oh, oh! Non ti attarda a spaccarmi, coglioni, eh! Oggi proprio non è giornata! MADONNA! Guarda che faccia di merda! Avvicinati, coglione! Ah, lo posso fare anche in faccia! No, non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! No, non ci credo! Lo premo quando è giusto il momento, PORCLA TROIA! Dio, buona notte vaffanculo! Gato del pugno, coglione! Su, cammela! Su, cammela, frocio! Tutti hanno le pistole modificate, tra l'altro. Ecco, la due pistole è la più figa. Guarda quanto cazzo è resistente! Ciao, strozzo! No, vado a vedere come si spappolava! Vai, là, là! Abbiamo salvato il mondo! Anzi, quest'isola di merda l'abbiamo salvato! Anzi, neanche, l'abbiamo salvato noi stessi! Tecnicamente, chi se ne frega di questa isola del cazzo? Oh, Sam! Grazie al cielo! Lara! Cos'è successo? Shhh! Sono qui! Sei svenuta dopo l'orgio! Va tutto bene! Va tutto bene! Mi hai salvato! Non sapevo! Te l'avevo promesso! Te l'avevo promesso! Sì, ma quando ti dico non toccare così tanti cazzi! Non farlo, dai! Sam, te l'ho detto! Eh, Dio! Adesso Dio li porta in cielo! Dio! Guardate che stronzate! Ma porca puttana! Ecco! Adesso è tutto un posto migliore! Adesso! Eh, adesso sta ricompando il sole! Deve essere che il sindaco l'aveva venduto per mancanza di fondi! Ecco Lara! Insieme a Sam! Ce l'ha fatta! Sì, perché Sam non può usare le gambe per camminare! Ecco! Ha i piedi leggermente storti! Ma buttale in mare! Cazzo ce ne frega! Che è successo lassù? È finita! Possiamo andare! Bene! Scappiamo da questo inferno! Adesso! Puntano verso il largo! Un'altra onda li riporta all'isola! Non usciranno mai! Ok! Sono stata ingenua! Stupida! E troia anche! Diciamolo! Per anni ho odiato mio padre! Dubitando di lui come tutti gli altri! E invece aveva ragione su molte cose! Magari potessi dirglielo! Ci sono così tanti misteri che un tempo avrei liquidato come semplici storielle! Ma la linea fra i miti e la verità è sottile e indistinta! Mi servono risposte! Voglio capire! Eh vabbè! Finito così? Sì! Serve qualcosa? Un cazzo! Che bello grande! Gli serve! Non so cosa ti sia successo su quell'isola ma dalle ferite dalla faccia che ti ritrovi forse non voglio saperlo! Presto saremo a casa! Non tornerò a casa! Che cazzo vuol dire? Io mi son fatto il culo per farti uscire da quell'isola e tu mi dici no non tornerò a casa! Beh è stato molto figo come gioco! Sì! Mi è piaciuto molto! Beh ragazzi è stato bello! Divertente! Ringrazio a tutti per il supporto! Noi ci becchiamo forse per Bioshock Infinity! Ma sicuramente lo starò già giocando quando vedrete questo video! Quindi... Beh ciao a tutti! Ciao a tutti!